Burcin Terzioglu e Sali Bademci si sono incontrati per una serie molto efficace. Una delle produzioni che i fan della serie aspettavano con ansia nell'ultimo periodo è la serie Yalanci, che andrà in onda su show tv. Il cast della nuova serie, che dovrebbe incontrare il pubblico a settembre, attira molta attenzione. Il fatto che Sali Bademci e Burcin Terzioglu, che sono nei ruoli principali, siano ottime scelte, aumenta anche l'interesse per la serie. Burcin Terzioglu ha dichiarato di aver iniziato a lavorare a un ritmo intenso sul set e ha dato il messaggio che tutto va bene. Inoltre, l'attrice, che ha dichiarato che le manca la serie televisiva, è molto emozionata. Le foto dal set mostrano che la squadra è motivata a lavorare e che la serie Yalanci sarà un ottimo lavoro. La serie, interpretata da Azal Turesan, Cemal Toktas e Sain Irmak, è un adattamento di Telayar, una produzione inglese. Vedrai nella storia della serie quanto è grande una bugia nella vita umana e che tipo di problemi può causare. Il successo della serie Yalanci dipende sia dalla sceneggiatura che dalle alte prestazioni degli attori. Possiamo dire che la storia è molto buona e sta arrivando una serie forte. Tutti dicono che Burcin Terzioglu e Saliba Demci sono ottime scelte. Yalanci è nella posizione di una serie molto attesa per la nuova stagione.